Salve a tutti ragazzi per fare una canzone di Billy Writers. Chi è Billy Writers? È il cantante che ha fatto e ha scritto There no sunshine where she's gone e tantissimi altri capolavori. La canzone che farò si intitola Use Me. Use Me l'ho sentita per la prima volta quando andai a New York per un viaggio di piacere che durò quasi due mesi in un club di fronte al Blue Note. Se non mi sbaglio si chiama il Village All Underground. In questo club la canzone Use Me fu cantata, prima cosa suonata benissimo, da una band strepitosa e alla voce c'era Kimberley Davis. Chi è Kimberley Davis? È la cantante delle Chic che collabora con Neil Rogers o Neil Rogers, non mi ricordo chi è Neil Rogers, quello che ha fatto i Daft Punk, che ha collaborato con i Daft Punk e ha prodotto canzoni internazionali, ha prodotto i dischi tipo Dave Bowie, suona ancora con le Chic è il fondatore delle Chic. Vabbè, io devo sentire questa canzone che c'ha un tiro e una cazzimma esagerata che è la cazzimma? Non ve lo voglio dire. Questa è la cazzimma. 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 Niu, si sono Kang ma successo. orkatelle un etcè più aoscerto che 28 in Dio e buoni. Questa è la cazziste pubblicità, Pintu 75 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti